All'interno del Libro degli Atti certamente una parte significativa è occupata dal personaggio di Pietro e Pietro è responsabile di tutta la prima sezione del Libro degli Atti come figura di riferimento della Chiesa di Gerusalemme. Ma mi preme sottolineare l'importanza del primo dei discorsi che Pietro tiene, quello in particolare legato al giorno di Pentecoste e che noi troviamo al capitolo secondo. È un discorso molto complesso ma è fondamentale perché apre quella che è il compito di coloro che saranno gli annunciatori, cioè l'annuncio del Kerigma, la professione di fede. Ma vediamo questo testo perché ha alcuni passaggi che è bene tenere sempre presenti, diventa in qualche modo un discorso programmatico e anche archetipo di tutti gli altri discorsi che poi noi potremo incontrare dentro il testo di Atti. Allora intanto partiamo dal presupposto che se il protagonista del Libro degli Atti è una parola che viene annunciata occorre sapere quale sia questa parola che viene annunciata? Perché questo diventa dirimente. Allora gli apostoli sono gli annunciatori della parola? Sono gli uomini della parola? Ma di quale? Pietro ci aiuta, o meglio Luca attraverso il discorso di Pietro a Pentecoste ci aiuta a capire bene questo aspetto. Il testo al capitolo secondo inizia il versetto 14. Allora Pietro, levatosi in piedi con gli altri undici, parlò a voce alta così. Uomini di Giudea e voi tutti che vi trovate a Gerusalemme, vi sia ben noto questo e fate attenzione alle mie parole. È interessante perché potremmo discutere molto su questo utilizzo dove la parola al singolare in realtà è tradotta con le parole plurali che gli umani, gli esseri umani, gli annunciatori devono utilizzare. Quindi questo messaggero che diviene il messaggio ha bisogno di più parole e da dove vengono prese queste parole. Anche questo diventerà un archetipo. Le parole che Pietro utilizza sono anzitutto le parole profetiche. In realtà in questo discorso due sono gli elementi che dobbiamo tenere presente. La prima parte del discorso, cioè quella che va dal versetto 17 al versetto 21, è la parte più scontata, almeno per quelli che erano gli uditori del testo di Atti all'inizio, cioè viene utilizzata la profezia del profeta Gioele. Negli ultimi giorni dice il Signore e vi è l'annuncio universale di uno spirito effuso su ogni persona. Quindi siamo alla giornata di Pentecoste, questo è quello che è avvenuto e pertanto quella giornata diviene il compimento di un giorno che era stato annunciato. Viene utilizzata in questo caso una scrittura profetica nell'ordine proprio del compimento storico. Oggi è quel giorno. Io effonderò il mio spirito sopra ogni persona, i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni, i vostri anziani faranno dei sogni. Questo popolo riempito dello spirito che diventa capace di interpretare anche un annuncio così tanto importante come capire che giorno stanno vivendo. Ora questa prima citazione diciamo che la capiamo anche abbastanza bene, è un'applicazione lineare della scrittura. Una profezia che annunciava quel giorno, oggi è quel giorno. Ma la cosa interessante è la seconda parte di questo discorso, quello che comincia per capirci dal versetto 22. Uomini di Israele, ascoltate nuovamente queste parole, quindi di nuovo abbiamo bisogno di un insieme di elementi che vengono proprio utilizzati mediante appunto la parola plurale, dove quello che viene annunciato funge da contrasto. Gesù di Nazareth, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso però tra di voi per opera sua, come voi ben sapete, quindi vi è un annuncio che è il sommario della vita del messaggero, dopo che secondo il prestabilito disegno e la prescenza di Dio fu consegnato a voi, voi l'avete inchiodato sulla croce per mano di empi e l'avete ucciso. Questo elemento di contrasto poteva apparire come uno schiaffo, ma non è il finale della storia. Ecco quindi l'annuncio del Kerigama, ma Dio lo ha risuscitato, cioè l'elemento della risurrezione viene annunciato come inserito dentro il piano lineare della salvezza, sciogliendolo dall'angoscia della morte, quindi in questo caso la resurrezione è annunciata come l'evento storico diretto di Dio dentro la storia di Gesù e è qui che Pietro compie l'opera probabilmente più significativa, cioè l'elemento della risurrezione che è dirimente per la questione, cioè noi non saremmo qui se Cristo non fosse risorto, se quel Gesù di Nazareth crocifisso non fosse risorto, vengono utilizzati tre salmi addirittura che vengono interpretati come annuncio chiaro di quella che sarebbe stata la risurrezione. E così abbiamo il salmo 16, il salmo 132 e il salmo 110. Sono ben tre salmi che vengono in qualche modo interpretati e proposti come la prova scritturistica anticipatoria proprio della stessa risurrezione. Quindi sui salmi si fonda la promessa della risurrezione del Messia. Ecco quindi che il Gesù nella storia è il compimento di quelle promesse. Questo è l'annuncio del Kerimba, una storia anticipata dalle promesse che però diventa carne. Ecco quindi il versetto 36. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito il Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Quindi quella condanna che si poteva vedere dentro la prima parte dell'annuncio kerigmatico diventa il momento storico attraverso il quale Dio compie la promessa contenuta nei salmi. Ecco quindi la conversione Pietro che dice pentitevi ciascuno di voi si faccia battezzare. Bellissimo il sommario che chiude questo primo testo e che ci fa capire qual è la linea che tratteggia l'annuncio. Noi apostoli siamo testimoni di un annuncio efficace. Questo annuncio è la parola del Signore risorto che entrando nelle vite di coloro che l'accolgono le cambia. Allora coloro che accolsero la sua parola al singolare questa volta perché l'annuncio contenuto attraverso tutte queste parole ed è Gesù risorto furono battezzati e quel giorno si unirono a loro circa 3000 persone. Bellissimo perché dentro questo discorso noi abbiamo da dove partiamo, come si sviluppa un annuncio, la sua accoglienza e il suo effetto ovvero la salvezza.